E' inutile che l'aspetta a te. L'ho picchiato io! L'ho massacrato di botte! L'ho massacrato di botte! Avevo ricerlo io! Il vecchio non scende a dire messaggi! L'ho massacrato di botte! Che stavi facendo padre? Dovresti stare a letto! Crede di avermi sconfitto! Non sai invece che questa è l'ultima battaglia? L'ultima duella con lui! E non lo posso perdere! Perché c'è il male nel mondo? È stato molto bene a sentire! C'è una mamma che sta ricamando al telaio. Lì c'è un piccinello suo seduto vicino a lei, però sta seduto su uno sgabelletto basso. Il piccinello guarda il lavoro della mamma, però lo guarda alla rovescia, così, da sotto. E dice, mamma mia, ma che stai facendo? Quanto è brutto sto ricamando, no? Allora la mamma che fa? Abbassa il telaio e mostra la parte buona del lavoro. Tutti i colori al loro posto e tutti i fili composti nell'armonia del disegno. Allora la mamma! Allora la mamma! Dì, vai! Dì, vai! Vistate l'acqua. 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 Viste l'acqua. Viste ho presa l'acqua. Siamo tutti seduti sullo scappello basso